e benvenuti in questo nuovissimo video di una nuova possibile serie su airy section ragazzi oggi siamo un po spettinati cioè non mi sono proprio pettinato la facecam non è delle migliori perchè è sera non ho acceso le luci mo le vado a accende ok ragazzi ora c'è un po' più di luce adesso ragazzi che cosa faremo questo sarà l'episodio 0 quindi decidete voi se volete una serie su airy section a voi il primo episodio sarà appunto quello di inizio della serie ho imparato un po' i comandi così gioca però non sono andato molto avanti anzi quindi non ho neanche salvato la partita dunque iniziamo subito io cioè metto le cuffie non le metto le cuffie iniziamo subito questa nuova spero si vi piaccia avventura meno 47 allora praticamente noi ragazzi noi facciamo tutta questa cosa sta cazzata perchè Farta de Trolle una missiera strega puttana ci ha fregato un melone però ragazzi va bene allora qui cado nei piatti me lo ricordavo me lo ricordavo a memoria tu sorellina quella lì incinta con due no che cazzo è no non ci posso credere ragazzi non ci posso credere allora ora gli faccio così ti eh maniamo 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 i piatti porco due maniamo i piatti allora iniziamo subito il primo livello il primo mondo qui rega ci sono le spine allora questi qui fanno un male tipo di quelli lì grandiosi oh no è bene è bene è bene è stata brutta puttana ecco due qui rega qui rega è impossibile oddio che cosa ho fatto oddio che cosa oh bene polli di merda mi sa pure andare addosso porca puttana si distroia è solo il primo livello e meno male che ho imparato i comandi meno male oddio mio nonna rega qui c'è un troll tipo di quelli lì paurosi questa qui mi ricordo questa qui girandola lo ricordo perché rega non so stupido eh ho guardato i video anche di favij e me lo ricordo che questo era un troll tipo clamoroso perché ti cadeva la mi mi ha bloccato vedete rega che si muove tipo tantissimo che schifo che schifo e lo ripeto che schifo non salta non farò tanti cioè non farò tanti minuti in questo perché rega alla fine è solamente un inizio serie e poi non so se la farò con la facecam non la perca puttana eh no perché mi sa mi uff uff fanculo cazzo non mi si blocca la lingua eppela oh oddio mio oh l'ho messo un colpo perché me lo ricordavo che qui c'è la di controllo e poi ho visto una zampa così a caso oddio mio cioè rega qualcosa me la uff cazzo è quel pedo biar pure su sto giochino che non fa un cazzo oh mi vuole stuprare da dietro subito perché se no uff che cazzo è la frog is the way poi devo prendere questa per chi questo te lo succhi proprio tutto nel culo perché mi stai destru allora me lo ricordo che era tipo complicatissimo allora me lo ricordo che qui bisogna far scattare stroia poi bisogna fare di questo poi bisogna saltare questo tipo qui non lagga tantissimo quando lo piglio no no non così troia allora forse ho capito la mossa non mi culi da dietro la sorellina piccola madonna mia no no vaffanculo che gay che so che gay troia 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 frog via dalle palle tipo questo tipo simile a ketto mario Sti giochini del merda Ok Ma perché? Ciao Vola nel cielo blu No Ma sono una troia Trasvirzale Ora io voglio fare una cosa Ma perché? Ma perché sono gay così? Ma perché? Se riesco a finire questo livello entro oggi Voglio 7 like Un numero così deciso in questo istante 7 like E ragazzi voglio vedere perché io E Non ci penso io a questo qui Non si serve a nulla Vuoi vedere che cosa succede qui? A me more More proprio male Io non so come cazzo fa sto livello di merda More là davvero basta 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 A stronzo A stronzo Allora No sono pezzi Sono una merda di rana Non me la Regà non è possibile Non è possibile Assolutamente Cioè manco per sbaglio Manco per sbaglio ragazzi Dio mio se non morimo No perché no No perché no Non volevo Ti giuro Oddio 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 non ci posso credi Oddio Oddio Sì Sì Così Sì 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 7 like Subito Così E ragazzi anche per questo Spero che vi sia piaciuto Se così fosse Commentate Iscrivetevi E lasciate un bel pollicione in su E soprattutto ragazzi Iscrivete se volete questa serie Che partirà dall'episodio 1 Comunque ragazzi Guardate a me è tutto Noi vediamo il prossimo video Beh ragazzi Ciao